Si è svolto giovedì 27 novembre a Grosseto un presidio organizzato da Fillea CGL, Filca Cisle, Fene Alla Willa Toscana, in occasione della mobilitazione nazionale unitaria del settore delle costruzioni, un comparto che in sei anni di crisi nella sola Toscana ha perso circa 28 mila occupati, cui si aggiungono i lavoratori di settori legati alle costruzioni, dunque lavoratori del legno, dei laterizi, delle cementerie, che ad inizio crisi hanno visto quasi dimezzare i propri occupati. In sei anni la Toscana ha registrato un calo del 47% di investimenti in opere pubbliche, mentre conta crescite nelle false partite IVA, nel lavoro irregolare, che trascina con sé negli appalti pericolose infiltrazioni. Le proposte delle tre sigle sindacali al governo sono state esposte al prefetto di Grosseto. Il prefetto ci ha ricevuto, ha ascoltato le nostre richieste, principalmente gli abbiamo esposto quelle che sono le motivazioni della mobilitazione nazionale, ma ha anche fatto alcune proposte e soprattutto necessità della nostra regione e lei si è resa disponibile a portarle e davanti al governo e davanti al presidente della regione e al coordinatore dei prefetti, che è il prefetto di Firenze. Da una parte noi chiediamo più investimenti sia per il settore, ma soprattutto per ripristinare i danni da distesso idrogeologico e per prevenire i danni, perché la regione ha fatto delle scelte importanti per la destinazione di risorse, per la prevenzione, secondo il nostro punto di vista lo Stato deve fare altrettanto. In realtà questo non sta avvenendo, ma molti per noi sono i proclami, ma in realtà della sostanza c'è poco. Mentre per quanto riguarda l'altra richiesta che abbiamo fatto, sia la necessità di un protocollo di legalità sugli appalti, soprattutto anche in seguito allo sblocca Italia, che ha aperto le porte a maggiore, secondo noi, con la semplificazione, però una semplificazione che aprirà le porte appunto a maggiore infiltrazioni e legalità negli appalti e quindi chiediamo un protocollo regionale dove ci sono tutti i soggetti, quindi anche le parti sociali, cosa che fino ad oggi nei protocolli sottoscritti non c'è. Il prefetto si è reso disponibile anche a questo, a portarlo appunto a livello regionale. crediamo quindi che su questi due argomenti importanti poi altri fanno parte delle nostre richieste, quindi interventi sull'edilizia scolastica, molte delle scuole in Toscana sono ancora senza i certificati di agibilità, quindi comunque la richiesta è vasta. Il problema è questo, è che noi abbiamo un settore che sta morendo. In sostanza si può dire che prevenire è meglio che curare, soprattutto per quanto riguarda il dissesto idrogeologico. Ma noi sono anni che stiamo facendo queste mobilitazioni, sono da oltre quattro anni, sia a livello nazionale sia a livello regionale e provinciale. Purtroppo oggi non c'è quella volontà forse da parte sia del governo nazionale sia dai livelli locali ad affrontare questo problema. Il problema che si è venuto a creare proprio giorni fa in Toscana riguardando i fatti gravi che sono successi a Carrara giustificano questa mobilitazione. Da anni il 50% dei lavori sono per appalti sotto i 150 mila euro, poi arrivano le alluvioni e ci ritroviamo in Toscana come in altre parti d'Italia nelle condizioni che sappiamo. Gli interventi fatti con la massima urgenza purtroppo si prestano agli eventi tipo Carrara che si costruisce l'argine in cemento armato quando sappiamo che la natura per storie e tradizioni in Toscana si è costruito sugli argini in maniera diversa. Però gli appalti al di sotto della soglia che veniva indicata sono per lo più fatti per massima urgenza perché manca una programmazione del territorio. È una delle cose che noi chiediamo ormai da anni, investimenti programmati nella prevenzione di questi eventi meteorologici che hanno l'effetto di prevenire gli eventi risparmiando anche a volte qualche vita umana e allo stesso tempo far ripartire il settore delle costruzioni che non è soltanto cementificazione ma anzi è il mantenimento del territorio e consentire un vivere civile nelle comunità.